Ciao ragazzi e benvenuti al nostro appuntamento con il Tg20 firmato Urban Week. Cominciamo il 10 ottobre che vede l'esibizione dei Periscope Quintet al Tatum Mart di Palermo. Dal 10 a 12 ottobre invece il tour Panorama d'Italia Palermo vede degli ospiti di eccezione come Vittorio Sgarbi, Lorenzo Fragola e Ficarra Picone. Il 13 e 14 ottobre invece assistiamo al balletto La Bella Addormentata al Teatro Massimo Bellini di Catania. Sempre il 14 ottobre il Café de Mar Closing Party a Malta. Concludiamo infine il 15 ottobre con il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera a Marzamemi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.